Chris Martin e Dakota Johnson dopo sei anni di storia d'amore hanno deciso di sposarsi. Hanno iniziato la loro frequentazione nel 2017. Lui si era lasciato con Gwyneth Paltrow, lei reduce dalla relazione con l'artista Matthew Heath. La fonte è il mirror, la coppia si è fidanzata ufficialmente un po' di tempo fa e ha preferito mantenere la notizia privata. Ora però si sono aperti al riguardo con la loro cerchia di amici. Sono stati innamorati l'uno dell'altra fin dal primo giorno, quindi questo passo era inevitabile. Non hanno fretta di organizzare il matrimonio. Sono felici però di rendere ufficiale la loro promessa. Chris avrebbe quindi fatto la proposta ad Dakota e con la piena benedizione di Gwyneth Paltrow e dei loro figli. E l'attrice ha rivelato anche ultimamente, amo quei ragazzi. Li amo con tutto il mio cuore. Un legame di amicizia con stessa Paltrow, che l'ha definita una persona adorabile e meravigliosa. So che può sembrare poco convenzionale, ma le voglio davvero tanto bene, ha sottolineato Gwyneth. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.